Ciao a tutti e benvenuti a questa nuova puntata di Liberamente in Camper. Oggi vi porto in Emilia Romagna, sono a Cesenatico. Quella che voi vedete mentre cammino alle mie spalle è l'area camper Cesenatico. Sono 140 posti, quindi direi un'area molto ampia, molto comoda. I vialetti di accesso sono assolutamente larghi e facili da transitare. L'area è attrezzata, c'è tutto carico-scarico, energia elettrica. Non solo è aperta tutto l'anno, accetta sia le caravan e ovviamente anche gli animali, gli amici quattro zampe. In questo momento mi sto dirigendo al bagno, perché così voglio farvi vedere i bagni e l'area comune che invece dove c'è il barbecue. Mentre arriviamo ai bagni vi dico che l'area è posizionata proprio in centro del paese. Quindi a piedi potete andare al supermercato. C'è il noleggio delle bici, quindi per andare direttamente giù in paese e sono 400 metri. Io l'ho appena preso, quindi sono andato giù sul lungomare. I servizi sono veramente comodi perché si possono raggiungere a piedi e anche quelli di prima necessità. Quelli che vedete invece qui adesso alle mie spalle sono i bagni, ci sono per la donna e per l'uomo. La doccia ha il gettone che si acquista in reception, all'ingresso e là invece vedete l'area barbecue. Quelle che invece sono le piazzole ce ne sono quasi tutte, 8 metri per 5, poi ce ne sono altre invece che sono molto più grandi per i camper più ampi. Ecco, così potete vedere un po' bene come è posizionata. Ci sono piazzole sia all'ombra sia coperte dagli alberi. Bene, questo è tutto. Ci vediamo al prossimo video. Fate i bravi. Ah, qualcuno mi chiede sempre i prezzi. Guardate, ci sono delle varianti che dipendono dal periodo che voi scegliete di venire a fare il soggiorno. Dal numero degli occupanti, del camper, da quanti giorni vi fermate. Quindi considerate che quando mi chiedete il prezzo, purtroppo non c'è mai un prezzo veritiero, perché se me lo state chiedendo il 15 di agosto avrà un prezzo differente rispetto a quando me lo chiedete per il 7 di novembre. Ecco, tanto per darvi dei parametri. Quindi vi consiglio sempre, andate a vedere il sito ufficiale della struttura e lì trovate i prezzi oppure chiamate i titolari. Ciao a tutti e fate i bravi. Ciao.